Migliori ome e rimedi per il diabete. Cipolla. La cipolla è un potente ed efficace rimedio a casa per il diabete mellito. Esso contiene composti quercetina ed izolfo. Da un lato, composti solforati sono composti antimicrobici forti. D'altra parte, la quercetina è un forte flavanoido che riduce ogni tipo di infiammazione. Questi due ingredienti in cipolla rendono un rimedio domestico efficace contro il diabete di tipo 2. La produzione di insulina viene attivato nel pancreas da composti dello zolfo e la quercetina riduce l'infiammazione nell'intestino. Infiammazione ridotto aiuta il sangue in uso di insulina ai fini della ripartizione glucosio. Questo processo riduce l'accumulo non necessarie di glucosio nel sangue. Quindi, succo di cipolla costituisce uno dei migliori rimedi domestici per il diabete mellito. Tuttavia, le persone che soffrono di diabete di tipo 1 non dovrebbero usare questo rimedio a casa. Aglio. L'aglio è un altro potente rimedio a casa per le persone affette da diabete di tipo 2. L'aglio contiene tali ingredienti che stimolano il sistema immunitario del corpo. È per questo motivo che l'aglio aiuta ad alleviare i problemi affrontati dai soffri di diabete. Il livello di zucchero nel sangue è sotto controllo, dal momento che l'aglio contiene allicina. L'allicina è un composto di zolfo che aiuta il pancreas a produrre insulina. Inoltre, mantiene anche il livello di insulina limitando alla quantità desiderata. Questo aiuta nella ripartizione di glucosio nel sangue. Quindi, il livello di zucchero nel sangue rimane sotto controllo. Aceto di mele. Aceto di mele è un rimedio casa popolare per il diabete. Esso contiene acido acetico, alcune vitamine, minerali e un paio di enzimi amichevoli del corpo. Fuori dell'otto, acido acetico è l'elemento chiave che aiuta nel controllo del diabete mellito. L'acido acetico è un detergente naturale del corpo. In un arco di tempo, varie tossine accumulano all'interno dell'intestino e della cavità addominale. Essi riducono il tasso metabolico. Tasso metabolico ridotto significa riduzione e ripartizione dei carboidrati. Così, l'aceto di sidro di mele, che contiene acido acetico, aiuta a pulire le tossine. Una volta che le tossine vengono cancellati, il tasso metabolico aumenta. Contemporaneamente, il metabolismo dei carboidrati anche viene attivato. Quindi, il glucosio non ristagna nel sangue. Tuttavia, il livello di zucchero nel sangue rimane sotto controllo. Pertanto, aceto di mele viene utilizzato dalle persone che soffrono di diabete mellito. Acqua. Aumento del livello di zucchero nel sangue costringe il corpo a abete rosso l'acqua dalle cellule del corpo vicine e tessuti, il che porta ad altri problemi di salute. Quindi, l'acqua potabile idrata i tessuti, cellule e altre parti del corpo. Il sangue riacquista la sua velocità di flusso. Così, lo zucchero ha la possibilità di raggiungere per varie cellule e tessuti del corpo attraverso il sangue. Aumenta il tasso metabolico in misura. Acqua mantiene anche il corpo pulito di tossine. Ciò aumenta ulteriormente il metabolismo. Pertanto, il consumo di acqua è ancora un altro rimedio a casa di prevenzione e di controllo per il diabete. Limone. Limone contiene vitamina C e fibre solubili del corpo in abbondanza. Questo rende limone un rimedio domestico efficace per il diabete. La vitamina C funziona come un pulitore di tossine del corpo. Questo fa scattare il tasso metabolico. Di conseguenza, il metabolismo dei carboidrati aumenta. Come risultato, l'eccesso di glucosio nel sangue rompe. D'altra parte, le fibre solubili corpo migliorano la digestione. Migliorata la digestione abbassa il problema di metabolismo ridotto. Questo funziona molto allo stesso modo nel ridurre eccesso di glucosio nel sangue così come vitamina C. Per esempio, limone garantisce un doppio vantaggio di mantenere il livello di zucchero nel sangue sotto controllo. Tuttavia, la ricerca, ormai ha dimostrato che il limone è una cura efficace per le persone affette da diabete mellito solo. Curcuma. Curcuma è il miglior rimedio a casa per il diabete. Questo è perché, non solo mantiene sotto controllo il livello di glucosio, è anche noto per curare completamente diabete. Tutti questi benefici in curcuma sono un risultato della curcumina, il principio attivo presente nella curcuma. Curcumina è un agente antimicrobico, anti-infiammatori, antisettico e antibiotici. Pertanto, essa ha il potere di guarigione di ripulire il corpo dalle tossine e uccidere l'infezione causando microbi che causano la digestione improprio. La digestione improprio rallenta il tasso metabolico. A quanto pare, la curcumina può anche rigenerare le cellule e tessuti nuovi e sani nel pancreas e nel fegato. Questa è la ragione principale dietro il diabete di cura di proprietà di curcuma. Le cellule sane producono automaticamente insulina in quantità desiderata. Tuttavia, questa è una soluzione sicura shot per le persone che soffrono di diabete. Tuttavia, il diabete è un disturbo di salute molto acuto. Si può anche portare alla morte e vari altri disturbi come attacchi di cuore, aumento della pressione sanguigna, diminuzione della pressione del sangue e molto altro ancora. Inoltre, il diabete può talvolta essere un'indicazione di gravi disturbi generici come la sindrome di Cushing, somatostatinoma ecc. Quindi, diventa obbligatorio consultare un medico nel diabete. È possibile utilizzare i rimedi casalinghi per il sollievo di lunga durata. Anche se, aiuto medico rimane il trattamento primario per il diabete. Alcuni rimedi casa come l'aceto di sidro di mele non devono essere eccessivamente consumati. Questo è perché, consumo eccessivo può eventualmente causare effetti collaterali. Alcuni altri rimedi casalinghi potenti ed efficaci per il diabete sono amari frutti e prodotti alimentari, bere lo zucchero o caffè nero libera, che consumano il miele al posto dello zucchero, evitando cibo spazzatura, yoga, lievi esercizi ambulanti per aumentare la salute fisica, yogurt, spinaci, noce di cocco, pomodoro, cetriolo, midollo e cannella. Aspettare realizing Grazie a tutti